Una villa di pregio da 200 metri quadrati con annesso deposito di oltre 130 metri, un ampio scoperto di 1.500, oltre a un'auto e a una moto d'epoca. A tanto ammontano i beni mobili sequestrati sulla base di un decreto emesso dal Tribunale di Venezia su proposta del questore di Padova a un 61enne, una misura nata grazie a un'indagine condotta dagli agenti della divisione anticrimine della Polizia di Padova e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, che hanno incrociato le proprietà del 61enne con i dati riconducibili ai suoi redditi pressoché nulli nell'ultimo decennio. L'uomo, che ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato ritenuto quindi socialmente pericoloso ed è scattata la confisca sulla base del codice antimafia. Questo tipo di iniziative, secondo me, realizzano, per così dire, la giustizia, perché si tratta di persone che comunque si sono arricchite a danno di altre, evidentemente, che sono state defraudate dei loro beni, che hanno subito delle conseguenze, delle pressioni, delle violenze, e dobbiamo essere soddisfatti, contenti, perché, come dicevo, è come se avessimo contribuito a rendere giustizia. Le indagini avevano permesso di ricostruire le fasi di acquisto della villa, passate attraverso il versamento di contanti su conti correnti intestati a una terza persona, che aveva emesso poi vagli apostali usati dalla sorella del 61enne, all'epoca dei fatti appena 18enne, per formalizzare poi la compravendita. La sorella avrebbe poi ceduto il bene al fratello. Nella villa sono state anche sequestrate preziose monete antiche, che erano state rubate e sono state restituite ai legittimi proprietari. Per il 61enne è scattata anche la misura di obbligo di soggiorno nel comune di residenza per i prossimi tre anni.